Siamo a casa sua, solo dopo un mese sappiamo la verità e ora ci saranno le indagini per detenzione e cessione di stupefacenti. Tra questi stupefacenti la droga dello stupro, quella sostanza che viene data alle donne soprattutto per essere violentate. Alle minori soprattutto. Continua la Lega ad avere dentro il suo partito persone ignobili, persone che continuano ad usare il sessismo e l'omofobia come fa Pilon. Questo non può essere un partito che rappresenta questo paese e non rappresenta San Siro, perché San Siro è meticcia, perché San Siro è diversa e qua la differenza va accettata. Morisi, 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 Morisi. Ci favorevano anche gli uom che sono schifosi. Vergognatevi, labbra, labbra. Salvini non è un razzista, Salvini vuole regolarizzare chi si merita, schifosi. Manca di zingali, zitta, Roma manca di zingali, Roma manca di zingali. L'agente ha problemi seri, esiste la miseria, tu non la conosci perché ti mantendiamo noi. Lega, la donna, Milano non perdona. Lega, la donna, Milano non perdona. Lega, drogati, drogati, drogati. Mi piace la droga, mi piace la droga.